Sono 73.898 i profughi ucraini arrivati finora in Italia dall'inizio dell'invasione russa. A dare la misura dell'accoglienza del nostro paese è il Viminale. 71 e 43 sono stati ricevuti alla frontiera, 2855 controllati dal compartimento polizia ferroviaria del Friuri Venezia Giulia. Il 90% di queste persone sono donne e bambini, il restante 10% è composto da uomini. La maggior parte di loro è rimasta a combattere al fronte. All'inizio del conflitto, iniziato lo scorso 24 febbraio, il flusso di arrivi era di 4-5 mila profughi al giorno, poi il picco è calato, fino ad assestarsi sotto i 2 mila nuovi ingressi quotidiani in Italia. I dati sono tuttavia incerti e non è possibile sapere quante persone ancora tenteranno di raggiungere il territorio italiano. La guerra ancora in corso rende difficile capire come e quando si sposteranno i profughi fuggiti dall'Ucraina. Il 60% di loro si trova ancora nella confinante Polonia e spera di poter tornare a casa il prima possibile. Al momento comunque la rete della solidarietà italiana ha funzionato bene, soprattutto a Milano, Roma, Napoli e Bologna, anche grazie alle 240 mila persone di cui è composta la comunità ucraina in Italia. Sono loro che maggiormente hanno contribuito a sistemare autonomamente amici e parenti in fuga dalla guerra. La situazione più delicata e che merita una menzione a parte, infine, è la questione dei minori non accompagnati arrivati dall'Ucraina e che si trovano al momento in Italia. Secondo un primo censimento sarebbero circa 300, ma le stime sono tutte da verificare. Per questo l'idea è di nominare un commissario straordinario che impedisca la nascita di tratte illegali di bambini e adolescenti, ma soprattutto che decida sotto la tutela di chi devono stare questi minorenni indifesi.